e per il nostro le fonti instant focus momento molto utile almeno lo spero per tutti voi e per tutti noi perché si parla tanto di inflazione di rincari delle materie prime quindi di rincari dei prezzi e allora c'è una nuova campagna di unione artigiani in particolar modo di milano e di monza e brianza a favore dei panettieri che effettivamente riguardano una delle categorie che più sta soffrendo a causa dei rincari delle materie prime dei rincari delle farine il caro bollette per i forni che di fatto in questo momento stanno lavorando in perdita che cosa prevede questa campagna quella di programmare i nostri acquisti di pane quotidiani visto che è un bene di prima necessità che quasi tutti acquistiamo cioè programmarli per l'intera settimana per evitare gli sprechi naturalmente si evitano gli sprechi gli stessi panettieri possono sapere quanto pane produrre senza buttare via nulla quindi di conseguenza potrebbero mantenere sempre più sotto controllo il prezzo finale per il consumatore e fondamentalmente ci sono due aspetti positivi noi andremmo a pagare meno il pane perché non ci sarebbero rincari come quelli che stiamo vedendo fino adesso e naturalmente potrebbero salvare anche le loro attività i panettieri potrebbero non essere più obbligati a chiudere o a produrre meno ricordiamo che produrre meno con una richiesta che rimane uguale significa l'aumento dei prezzi sentiamo cosa ci dice in questo video il segretario dell'unione artigiani per milano e monza abrianza marco accornero in questo periodo di crisi legata all'innalzamento del costo dell'energia e delle materie prime che ha investito nel settore dell'artigianato in maniera pesante quelli i mestieri legati a un alto consumo di energia e che importano materie prime che sono diventate scasse sul mercato si registra un particolare innalzamento dei costi nel settore della panificazione in particolare come si può immaginare il costo dell'energia incide molto per riscaldare i forni per cuocere e soprattutto alimenti che richiedono un grande dispendio di energia e poi c'è un grande aumento oltre il 200 per cento del costo del grano e quindi della farina in questo settore in una città come l'anno peraltro registriamo degli sprechi inevitabili secondo le attuali andamento della domanda e l'offerta per cui il panificatore per poter soddisfare il proprio cliente è costretto a produrre di più del pane che poi riesce a vendere perché non sa mai esattamente quanto pane acquisterà il proprio cliente quando lo comprerà al mattino al pomeriggio alla sera anche perché gli stili di vita sono cambiati a seguito della diffusione dello smart working e quindi il panificatore per soddisfare il proprio cliente siccome come si suol dire il cliente ha sempre ragione quindi non perderlo è costretto a produrre più pane di quello necessario per averne sempre a disposizione una sorta di magazzino però il pane artigiano un prodotto fresco che quindi se non venduto e non consumato purtroppo viene buttato via e questo comporta uno spreco alimentare che anche moralmente inaccettabile e un sostenere dei costi inevitabili da parte del panificatore se facciamo assieme una strategia vincente consumatore panificatore potremo evitare da un lato lo spreco alimentare da un lato consentire al panificatore di contenere i propri costi e quindi di non ribaltare questo aumento dei costi sul consumatore finale aumentando il prezzo finale del del pane da qui è nata l'idea di fare i pane su ordinazione nel senso che fidelizzare i propri clienti e informare e così creare una cultura della pianificazione riguardo all'acquisto del pane e quindi invitare i clienti al proprio planificatore di fiducia di inviare le richieste di pane per il giorno dopo inviarle entro il giorno prima in maniera tale che il panificatore saprà in anticipo quanto pane venderà e saprà in anticipo di conseguenza quanto pane produrre evitando gli sprechi e ottimizzando la produzione e in un solo momento della giornata in maniera tale da ottimizzare anche l'utilizzo del forno e utilizzare meno energia questo consentirà al panificatore consentirebbe al planificatore di avere meno spese e di conseguenza poter vendere il pane a un prezzo più contenuto perché attualmente i panificatori rischiano di vendere il pane in perdita e prima o poi saranno inevitabilmente costretti a alzare anche in maniera significativa il costo finale del pane e quindi è una strategia che potremmo chiamare win-win aiutiamoci ad aiutarvi e quindi invitiamo i consumatori e i clienti dei panificatori a prenotare il pane con un gesto semplice un whatsapp un'email una telefonata in maniera tale di consentire al panificatore di programmare le proprie vendite e quindi di contenere il prezzo di vendita tutto questo nell'interesse di tutti anche di evitare lo spreco alimentare che se pensiamo a quelle parti del mondo dove non c'è cibo abbastanza per tutti anche moralmente come dicevo inaccettabile. Grazie a Marco Accornero, grazie all'Unione Artigiani per questa campagna iniziativa i gesti consapevoli certo non risolvono l'enorme situazione ma possono aiutare.